Musica 24 anni di successi, ma quest'anno in modo particolare ci sono 120 aziende che sono tutte da scoprire e da visitare. La fiera apre domani alle 16.30 e chiuderà alle 21.30, poi c'è sabato, domenica e lunedì anche la mattina dalle 10 alle 13. Vi invito numerosi, venite a visitare Lecce Arredo perché ci sono delle novità importantissime. I migliori produttori salentini sono presenti tutti in fiera, selezionati esclusivamente da numerosi architetti locali. A questo è un'interiore conferma che il territorio è un territorio effervescente che offre opportunità al mercato del mobile e che comunque è un territorio sul quale si può puntare per un'attività non solo di commercializzazione ma anche di produzione. Lecce Arredo è un'occasione non soltanto quindi di mettere in vetrina i propri beni, le proprie merci sotto il profilo della commercializzazione. Quindi dicevo, la sottolineatura sull'artigianato è una sottolineatura voluta ed importante. Il territorio salentino è un territorio che da sempre ha offerto nel campo della falegnameria dei profili di pregio come pochi ce ne sono veramente in Italia e sottolineavamo come fosse questa una fiera di arredo nazionale e il fatto che sia la 24esima edizione vuol dire che è una fiera che tiene e che suscita ancora l'interesse del visitatore. Quest'anno c'è un'altra grande novità, abbiamo a disposizione un architetto in fiera che darà delle consulenze per quanti decideranno di venire a chiedere informazioni e realmente a capire come arredare il proprio appartamento, la propria casa quindi sicuramente sarà un servizio molto utile e ne siamo orgogliosi di poterlo offrire. Grazie